Cioè, al fin dell'auto ho usato solo una mossa di te con gli altri e tutte mosse cretine. Oh, è solo che io al più fa ti devo un po' come che era super efficace sul tuo. Tranquillo. Ma che fotocamera oggi cos'hai? Grazie. Sì, comunque adesso andrò a catturare Squirtle. Oggi è lunedì e siamo a Mele Mele. E qui troverete il cavolo. Oh cavolo, posso stare a prendere il condannato Squirtle? Ammazzatelo, ammazzatelo. Salterò la notte a parte per farvi vedere i Pokémon che ho. Grazie. 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 squirtle scusate che non se non ve lo faccio vedere nel video adesso vi faccio solo vedere lo squirtle tanto per non lo troverete subito io l'ho tratto un po in fondo alla grotta intanto lungo il percorso mentre trafugiamo tra le bacche appare questo pokemon che lo trovate solo nelle bacche e non sempre c'è da te per fortuna e intanto che pensiamo sul percorso 1 c'è un poco che dorme ma è mi spesso vado di fretta un poco intipavorante sì ma adesso non lo batterò torneremo ad affrontare alla prossimo video quando avremo una scheda di pericolata voglio solo dire una cosa questo signore dice una cosa un po inquietante beh vi ricordo che ci sono dei pokemon fati a castello di sabbia che ci sono nella sabbia che ingoiono cose quindi probabilmente che sia stato preso da un pokemon vabbè detto questo vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti